Fabio Parducci e Shakira Juari sono gli studenti vincitori delle due borse di studio da 1200 euro nell'ambito del bando promosso dall'Istituto Parentuccelli Alzelà di Sarzana in memoria del professor Lorenzo Vincenzi. Vincenzi docente di materie letterarie per oltre 40 anni al Parentuccelli, storico della resistenza provinciale Deus es Machina dell'Università Popolare Spezzina, autore di saggi e testi che hanno raccontato la storia del territorio. Noi come classe abbiamo fatto la maturità con lui nel 1993, negli anni abbiamo continuato a incontrarlo, conoscerlo, frequentarlo e apprezzarne sempre di più le doti umane e molti di noi, forse anche molti ragazzi se ne sono accorti proprio crescendo, uscendo forse dalla scuola di quanto siano stati e siamo stati fortunati nell'averlo avuto come maestro, amico e compagno. Il mio ricordo personale poi è anche legato a una passione, lui che era un uomo così distante dalle passioni invece aveva questa cosa neanche troppo segreta dell'amore per le aquile, per lo Spezia, la squadra della sua città e ancora adesso che siamo rientrati allo stadio le prime volte in Serie A è stato il primo gesto che ho fatto rientrando in curva, è stato girarmi verso i gradoni dove era lui e cercarlo con lo sguardo. Vorrei ringraziare l'Istituto Parenti Uccelli Arzelà per questa bellissima iniziativa in memoria di uno dei professori più amati sia degli studenti del plesso che da parte dei genitori, è sempre stato un professore puntuale, un professore presente ed è proprio per questo che è giusto ricordare la sua memoria. Attenzione verso i ragazzi ma soprattutto per quelli che ne hanno un maggiore bisogno. Ecco una cosa che forse non si è detta abbastanza del professor Vincenzi è che aveva una grandissima attenzione per i ragazzi in svantaggio. Tantissime volte a me che mi occupo da anni e anni di queste problematiche all'interno della scuola lui si è rivolto per chiedere informazioni, per dare la sua disponibilità, per dirmi cosa avrebbe potuto fare. Ecco questa è una cosa che mi porta nel cuore veramente.